Ciao amici e Revotech a tutti! Abbiamo provato questo Dream L10S Ultra Gen 2 un robot lavapavimenti che mi ha letteralmente impressionato perché vuoi dire te ma ti piacciono tutti, sono tutti belli non fare un flatulenser no no no, stavolta ci troviamo di fronte a un robot che costa molto meno rispetto ai blasonatissimi top di gamma ma che non sfigura affatto in mezzo a questi mostri sacri e anzi ha delle funzionalità che lo rendono ancora più appetibile questo prodotto ha caratteristiche di fascia alta soprattutto per quanto riguarda la stazione di ricarica e il lavaggio per questo motivo ha attirato non solo la nostra attenzione ma l'attenzione un po' di tutto l'ambiente e anche molti clienti che se lo sono aggiudicati giustamente perché ha una qualità altissima con un prezzo decisamente aggressivo parliamo comunque di prezzi e di investimenti importanti perché quando si sta attorno ai 700 euro comunque non sono certo bruscolini mi raccomando venite sul nostro gruppo Telegram Revotech Group unitevi alla grande famiglia like al video se vi piace iscrivetevi al canale e condividete i nostri contenuti tutto il resto lo guardiamo insieme subito dopo la sigla il Dream L10S Ultra Gen 2 d'ora in poi lo chiamerò L10S Ultra perché così facciamo prima è un robot che ci è piaciuto tantissimo e che non possiede apparenti difetti e le cui uniche piccole pecche riguardano piccole mancanze dovute ovviamente a una fascia di prezzo leggermente inferiore rispetto al top del top del top del top però non le noterete nella confezione innanzitutto imballata alla perfezione troviamo il robottino in una scatola a parte mentre nel resto della scatola abbiamo tutti gli altri accessori e non manca assolutamente nulla infatti oltre alla stazione di ricarica di svuotamento e lavaggio al robot ai moci rotanti alla spazzolina laterale alla spazzola centrale al cavo di alimentazione proprio non manca assolutamente nulla abbiamo poi anche i manuali che non sempre sono presenti e vi rimandano un codice QR una spazzola multifunzione per pulire a fondo l'alloggiamento del robot e la rampa della stazione due sacchetti per la raccolta dello sporco all'interno della stazione uno installato già preinstallato nella stazione di ricarica e un altro di ricambio e soprattutto c'è anche il detergente originale Dream da aggiungere alla stazione per il lavaggio del pavimento e dei moci abbiamo avuto qualche problemino a togliere la stazione di ricarica perché era incastrato sotto a degli altri cartoni ma era una cosa voluta per tenerla ferma ed evitare sballottamenti durante il trasporto e devo dire che l'imballo era assolutamente perfetto per quanto riguarda il software e l'applicazione Dream L10S Ultra Gen 2 può contare sulla stessa ottima applicazione dei fratelli e cugini e quant'altro funziona bene e soprattutto è ricca di molte funzionalità una volta aperta permette con estrema semplicità di personalizzare ogni aspetto del robot e della stazione di ricarica per far sì che ogni azione sia facile da eseguire in ogni ambito per esempio è possibile personalizzare secondo parametri diversi l'aspirazione, il lavaggio, la manutenzione della stazione di ricarica il comportamento da avere con i tappeti come affrontare gli ostacoli visualizzare l'usura dei componenti sostituibili visualizzare e modificare le mappe configurare i comandi vocali proprietari e gli assistenti vocali terzi come Amazon Alexa e Google Assistant aggiornare il firmware e fare tante altre cose utili per far sì che il robot si adatti alle richieste personali e all'ambiente di lavoro al meglio appena l'abbiamo acceso infatti abbiamo scaricato un aggiornamento e l'abbiamo applicato all'istante perché bisogna comunque sempre utilizzare l'ultima release per avere tutte le funzionalità aggiornate all'applicazione molto ben fatta si aggiunge poi un software di comando del robot che lavora davvero bene e che interpreta molto bene tutti gli aspetti e i comandi sia che riguardino l'aspirazione che anche il lavaggio funziona tutto bene non perde mai un colpo evita sempre e con cura gli ostacoli e non fa manovre anomale non sbatte a destra e a sinistra tranne in qualche piccola occasione ad esempio il panchetto del pianoforte non aveva forse riconosciuto i piedi del panchetto e ci è andato a sbattere contro ma in modo molto delicato invece con le sedie questo non l'ha fatto evidentemente non aveva mappato bene quella zona alla prima passata che a volte servono due o tre passaggi per mappare in modo preciso tutto l'ambiente comunque non si incastra nei tappeti non si intrappola in mezzo alle sedie pulisce benissimo e lo fa anche in modo silenzioso e in generale interpreta sempre al meglio l'ambiente circostante e si muove nel modo giusto e questo sia che gli si impostino delle opzioni automatiche per cui gestite dalla sua intelligenza artificiale oppure che gli si impostino delle opzioni manuali per quanto riguarda la capacità di lavaggio lui lava benissimo in qualsiasi situazione e con qualsiasi tipo di impostazione lo abbiamo provato con impostazioni differenti e ogni volta è riuscito a lasciare un pavimento pulito lucido, omogeneo, con un buon aroma di detergente senza il bisogno di dover passare a eliminare qualche macchia a mano per di più con una sola passata e senza impostare livelli massimi d'acqua perciò facendogli anche risparmiare l'acqua è chiaro che i risultati dipendono dal tipo di superficie noi in casa abbiamo sia mattonelle, un color marroncino come potete vedere nel video che parche nelle stanze da letto poi dipende anche da quanto tempo lo sporco è sedimentato è ovvio e anche altri fattori ma comunque lui grazie a questa capacità di spingere, strofinare infatti ricordiamoci che ha una pressione di ben 10.000 pascal perciò ha una forza incredibile sul pavimento e riesce a strofinare i mochi e per essere sempre efficace e può eliminare anche macchie più difficili anche perché in base alla mappatura che fa riesce a ripassare anche nei punti più critici il suo punto forte è sicuramente la capacità di arrivare dove altri robot non possono arrivare e di lavare anche lungo i bordi degli oggetti e dei battiscopa sotto i mobili di qualsiasi genere, persino negli angoli a patto ovviamente che ci sia lo spazio intorno per potersi muovere questo è possibile grazie all'estensione del mocio, quello di destra che è capace di allungarsi di diversi centimetri fuori dalla sua circonferenza e alla sua capacità di ruotare su se stesso per far sì che il mocio estensibile arrivi anche negli angoli più angusti e difficili da pulire il lavaggio è in ogni caso altamente personalizzabile già partendo dalla vaschetta dedicata all'aggiunta del detergente sì perché è dotato anche di un piccolo serbatoio specifico per l'aggiunta del detergente ed è capace di prelevarlo in autonomia infatti c'è l'opzione nell'app in base alla necessità della pulizia che bisogna eseguire c'è anche poi la possibilità di impostare la modalità di lavaggio per aumentare o diminuire il segmento di pulizia di aumentare o diminuire il livello del flusso d'acqua fra ben 32 livelli di cambiare l'intervallo di lavaggio dei moci di scegliere la pressione dei moci fra leggera, standard e profonda io ho lasciato tutto in automatico e già così lava perfettamente perciò ho lasciato libertà al robottino di scegliere le impostazioni migliori in base a quello che lui ha rilevato c'è poi anche il tempo di asciugatura che si può impostare che viene effettuato con l'aria calda oppure la possibilità di pulirli manualmente e di impostare qualche altro parametro di minor importanza non c'è poi da dimenticarsi il fatto che Dream L10S Ultra è completamente autonomo e preleva in automatico l'acqua pulita per il lavaggio ed espelle in modo sempre automatico l'acqua sporca e quindi di conseguenza la sporcizia dei moci scarti che poi finiscono nella vaschetta dell'acqua sporca infatti poi lui preleva da solo il detergente dall'apposita vaschetta pulisce in autonomia l'alloggiamento e la rampa di risalita della stazione e può persino riempire e svuotare in autonomia le vaschette dell'acqua pulita tramite l'impianto idraulico di casa grazie agli attacchi nella parte posteriore della stazione perciò è completo e si integra perfettamente con gli impianti casalinghi tutto questo funziona veramente bene e con molta efficacia senza bisogno di intervenire manualmente su qualche particolare un'altra cosa che è fondamentale è in grado di alzare i moci fino a un massimo di 10.5 mm per passare sui tappeti mentre sta effettuando il lavaggio del pavimento e si comporta benissimo anche nel rilevamento automatico dei tappeti per quanto riguarda l'aspirazione aspira in maniera eccellente così come ha un occhio particolare sui peli degli animali domestici e anche la zona stessa degli animali la riconosce in automatico e ci gira intorno per renderla più confortevole e pulita possibile lui aspira tutto e non lascia nulla sul pavimento soprattutto in modalità max più che utilizza sempre la massima potenza di aspirazione sono 4 in totale i livelli che si possono selezionare e poi aspira tutto e di tutto sia sul pavimento che sui tappeti negli angoli lungo i bordi dei mobili sotto i mobili lungo i bordi dei battiscopa e lo fa con una sola passata e senza schizzi vari senza mandare lo sporco chissà dove con la spazzola rotante il merito è sicuramente dovuto a questa spazzola principale in gomma antigroviglio posta nella parte inferiore e anche della spazzola rotante laterale che è capace di raggiungere i bordi e gli angoli più impensabili variando la velocità di rotazione per raccogliere e aspirare tutto in modo efficiente peccato che la spazzolina che gira in senso anti-orario non sia estensibile il mocio di destra sì ma la spazzolina no è un robot che aspira veramente bene e tutto anche grazie alla potenza come dicevamo di 10.000 pascal potenza che non va assolutamente sottovalutata perché permette di eliminare qualsiasi cosa sia presente sul pavimento e uno degli aspetti positivi è senz'altro che non teme nessun tipo di tappeto e oggetto in quanto le sue ruote gommate e alte possono superare ostacoli alti fino a 20 cm e che è completamente automatizzato perché la stazione di ricarica è dotata di un sacchetto e della funzione di autosvoltamento dello sporco raccolto durante l'aspirazione supporta poi la possibilità di personalizzare l'aspirazione di pulire a fondo gli angoli e i perimetri di mobili e tavoli di impostare la sequenza di pulizia, di programmare la pulizia, di riprendere la pulizia dopo una ricarica per batteria scarica là dove aveva interrotto di riconoscere automaticamente i tappeti per aumentare la potenza d'aspirazione di riconoscere ed evitare gli ostacoli di pulire solo alcune zone personalizzate e di pulire solo alcune stanze come dicevamo prima e scegliendo la sequenza di pulizia delle stanze e di personalizzare ancora qualche altro parametro anche qui è estremamente versatile e completo e si fa apprezzare tanto perché è completamente programmabile e personalizzabile in ogni menu possiede anche una nuova funzionalità chiamata Clean Genius che permette di avere dei report pieni di suggerimenti basati sulla disposizione della propria casa per una pulizia personalizzata su misura per gli ambienti e questo è un aspetto molto pratico aggiungiamo anche un altro aspetto grazie alle sue ruote in gomma e alte e a una spazzola principale in gomma con una particolare forma sono praticamente quasi zero i fili che si attorcigliano intorno a questa spazzola e ciò è davvero un plus perché il robot in questo modo rimane sempre pulito e non dovete fare praticamente mai manutenzione a livello manuale la stazione di ricarica è piuttosto ingombrante anche se è molto meno rispetto ai robot visti in precedenza e questo ovviamente a causa di ciò che contiene al suo interno in primis le vaschette dell'acqua sporca e pulita il sacchetto per lo svuotamento automatico e la vaschetta del detergente e i vari strumenti per la pulizia e l'asciugatura automatica nonostante le dimensioni però passa inosservata perché esteticamente è elegante e sobria senza l'aggiunta di altri elementi strani in più è anche molto ben fatta a livello di materiali possiede un coperchio robusto sulla superficie per accedere alle vaschette dell'acqua che sono di 4 litri e mezzo l'una sia dell'acqua sporca che dell'acqua pulita e poi un coperchio anteriore incastro per accedere al sacchetto della polvere e dello sporco e alla vaschetta del detergente e un led di forma rettangolare sulla parte anteriore e in più c'è da dire anche che è poco rumoroso e non vi accorgerete quasi della sua presenza c'è poi anche una modalità silenziosa da abilitare a parte per quanto riguarda le mappe e gli ambienti questo robot riesce a creare una mappa completa e precisa degli ambienti già dopo il primo passaggio nonostante poi venga affinata e come dicevamo aggiornata con le successive rilevazioni e passaggi le mappe che tira fuori sono molto fedeli perché includono tutti i dettagli fisici degli ambienti e poi possiedono la peculiarità di essere anche in 3D è capace infatti di creare la solita mappa in due dimensioni ma anche di crearne in tre dimensioni il riconoscimento degli oggetti funziona solo con alcuni iPhone specifici e qua speriamo che in un prossimo aggiornamento invece vadano ad implementare questa funzionalità anche con Android comunque la mappa in tre dimensioni è non dico inutile ma diciamo che è più una cosa estetica che non ha una grandissima utilità a fini pratici anche perché quella in due dimensioni è più pratica e anche più dettagliata se vogliamo dirla tutta ovviamente le mappe sono poi modificabili ed è possibile cambiare nomi, colori, icone degli ambienti unire e separare gli ambienti stessi creare muri virtuali modificare anche altri parametri lui è dotato di tutti i vari sensori come il sensore LIDAR e il sensore inferiore per evitare che possa cadere dalle scale la batteria è da 5200 mAh, capacità standard per questo tipo di robot e garantisce una buona sicurezza generale per qualsiasi tipo di pulizia anche qui per l'autonomia come per l'efficacia della pulizia il discorso è strettamente personale perché dipende anche dalla potenza, dal tipo di pavimento, dalla quantità di sporco e da altri fattori perciò fornire dei dati precisi è impossibile comunque l'azienda dichiara circa 120 minuti di utilizzo continuo e in base al nostro tipo di utilizzo si è avvicinato molto a questa soglia in più è dotato di una ricarica della batteria più veloce del 30% rispetto a quella dei robot di generazione precedente perciò è molto difficile che non sia pronto a pulire quando gli è richiesto per quanto riguarda i sensori ovviamente dopo 8 ore di lavoro devono essere puliti la spazzola laterale, la spazzola principale, i moci, il filtro e vari componenti sono tutti monitorabili dall'applicazione per smartphone la manutenzione va fatta di rado in base ovviamente alla frequenza di utilizzo e tutti i componenti sono sostituibili con facilità anche perché è facile avere accesso e acquistarli online su Amazon utilizzando il link a disposizione della stessa Dream si è soddisfatto veramente tanto perché funziona benissimo e fa sempre la cosa giusta ve lo consigliamo è sicuramente un dispositivo se non avete mai avuto robot in casa che non sfigura davanti a device molto più blasonati che superano abbondantemente i 1000€ perciò noi lo consideriamo un vero e proprio best buy stiamo pensando addirittura di smaltire i vecchi regalarli o comunque diciamo di smetterli per tenere quest'unico prodotto che ci ha soddisfatto tantissimo non è un top di gamma come prezzo ma lo è di fatto detto questo salutiamo tutti gli amici malati di smartphone di smartwatch e tutti i loro network su Telegram venite anche sul nostro gruppo Revotech Group sempre su Telegram ci vediamo presto per tanti altri contenuti qui su Revotech non mancate vi aspettiamo numerosi like a bestia iscrivetevi al canale condividete i nostri contenuti e accendete la campanella delle notifiche un saluto da Pasqui ci vediamo presto e Revotech a tutti ciao ciao